L'otta all'evasione, pagare meno pagare tutti, porta anche il canone. Era 113, va a 100 euro. Dici, ma io non lo pagavo. Ho capito, se non lo pagavi, non va bene. Ma se lo pagavi, il prossimo anno paghi meno. Aggiungo che la curva del canone sarà discendente anche nei prossimi anni. 100 euro nel 16, 95 nel 17. Continuerà a scendere. Prego. Attraverso la bollettazione.